Andrea DG24, Bologo, un'ottima prestazione per te, ti sei fatto trovare pronto, un punto preziosissimo. La cosa fondamentale è stata appunto riuscire a guadagnare questo punto qua sul campo, era molto fondamentale. Io mi sono messo a disposizione della squadra, ho cercato di fare quello che mi ha richiesto il mister, poi devo ringraziare i ragazzi che senza di loro non sarei mai riuscito a fare questa prestazione. BGFR Sport ha al debutto dall'inizio una dimostrazione di grande maturità ed hai messo in mostra le tue qualità tecniche, un esame superato. Lo ringrazio, però penso che sia tutto merito della squadra, se sono riuscito a esprimermi al meglio. Di Ruzza il tifoso, Bologo complimenti per la partita di oggi, è sembrato un veterano, ottimo in entrambe le fasi, sia offensiva che difensiva. Ringrazio anche lui, mi fa onore, sono veramente onorato per le sue parole, però devo sempre dare di più, anzi penso che questo qui sia un punto di partenza e devo continuare su questa strada. Campioni alle Frosinone, quanto è difficile questo momento e quanto si è compattato il gruppo per superare questa difficoltà? Questi momenti difficili appunto servono alla squadra per dimostrare che siamo tutti uniti, noi abbiamo fatto vedere che siamo presenti, non ci preoccupano, alcuna situazione non ci preoccupa, anzi ci rende ancora più forti. L'ultima, Pantano Autosport, Bologo complimenti per la grande partita disputata. Che sensazioni avevi prima della partita? A livello di ritmo come ti sei trovato a disputare un'intera gara di Serie B dopo tanto tempo? Ma prima della partita ero un po' teso, perché appunto non sapevo come fosse giocare fin dall'inizio una partita di Serie B. Però poi appena è entrato, sono entrato Sereno, grazie anche ai compagni che mi hanno dato il supporto, mi hanno detto di pensare solo che è una battaglia, non che è una partita di Serie B. E niente, grazie. Grazie a voi.